Finalmente sul Darkside dedichiamo una puntata intera, monografica, a una delle figure chiave dei nostri anni di piombo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vi aspettiamo il 9 novembre con lo storico e saggista Vittorio Polpo e con il suo libro il generale Dalla Chiesa, il terrorismo e la mafia, non mancavi.